L'ottomatica, 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 dove sta l'ottomatica? Porca miseria, porca, ah va? L'ottomatica! Buongiorno, sono venuto per fare il biglietto della partita di oggi. Mi dispiace, la pre-vendita per la partita di oggi inizia solo martedì prossimo. Ma come martedì prossimo? Mi devo tornare un'altra volta a Ascoli per vedere la partita di oggi? Io lavoro lontano, io sto fuori, non posso venire due volte a Ascoli. Non posso farci niente, queste sono le leggi. La pre-vendita inizia solo martedì prossimo. Mi dispiace. Buonasera, allora io sono stato a fare il biglietto dell'ottomatica, mi hanno detto che per entrare oggi dovevo andare a fare il biglietto martedì prossimo, perché oggi non ce l'hanno disponibile. Come posso fare ad entrare? Purtroppo le disposizioni sono queste. Ma, chiedo scusa, perché questi signori stanno entrando allora? Ma questi addirittura l'hanno fatto sabato prossimo. Lei si deve svegliare, si deve proprio svegliare. Lo so, ma non mi può aiutare un attimo? Posso chiudere un occhio e venirle incontro. Dica, come posso fare? Lei, torni qui giovedì scorso. Ah, quindi se io torno qui l'altro ieri, lei mi può dare una mano per poter risolvere queste questioni. E nel frattempo io che cosa devo fare? Certo. Ah, ho capito. Comunque è stato gentilissimo. La ringrazio. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci. Buonasera. 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 Mi fermo qua un attimo. Ok, grazie Gri. Ciao, ciao.